Buonanotte Signor Mortara, il suo figlio Eligardo è stato battezzato Ho l'ordine di prenderlo Cosa? A prenderlo in che senso? Portarlo via Se lo portasselo via! Tutto è stato fatto in piena regola Il grado! Secondo il diritto canonico Mi toglierò il nuovo testo, papà Ti faranno niente Si può perdere tutto Ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue Questo creerà nuove attenzioni Io sono il Papa Solo a Dio devo rispondere La storia è andata su tutti i giornali Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America Suo figlio non è più ebreo, signora È cristiano Il figlio è ebreo Hai battezzato mio figlio? Hai battezzato mio figlio? Va il mio figlio! Va il mio figlio! Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma Questa è la tua famiglia adesso? Questa è la tua famiglia adesso? Grazie a tutti.